Una vera e propria fuga dagli ospedali di Salerno e provincia che rischia di pregiudicare l'assistenza sanitaria ai pazienti. È il timore del presidente dell'ordine dei medici Giovanni D'Angelo e del direttore generale dell'azienda ospedaliera Ruggi d'Aragona Giuseppe Longo. A preoccupare sono gli addi per quota 100 che si aggiungono ai pensionamenti ordinari, le difficoltà per l'accesso alla professione dei giovani camici bianchi e non solo. Si prospettano messi molto molto difficili da un punto di vista organizzativo, date le carenze che si sono create in varie parti e per varie motivazioni, i pensionamenti, la quota 100, il problema del blocco del turnover. Adesso bisogna velocemente, mi pare che qualcosa si stia facendo in tutte le parti della regione, si stanno avviando concorsi in maniera abbastanza rapida per dare sicurezza ai nostri concittadini ma soprattutto a quelli che ci onorano con la loro presenza nei mesi estivi. Se noi sommiamo a quelli che ordinariamente vanno in pensione più la quota 100, sostituire questo contingente che potrebbe rappresentare un centinaio di unità per un'azienda come la nostra diventa poi effettivamente una di quelle situazioni che è capace di metterci in ginocchio. Se effettivamente è possibile utilizzare strumenti, in questo caso più rapidi, più veloci, questo rappresenterà sicuramente una di quelle modalità con cui è possibile superare uno dei momenti più difficili che è appunto quello del reclutamento del personale ed avere quindi dotazione di personale adeguate a quelli che sono i livelli di attività da erogare.